Si è risvegliato dal coma farmacologico Fabio Provenzano, 34 anni, l'uomo che due settimane fa impreda gli effetti della cocaina e poco dopo aver realizzato una video diretta su Facebook, perse il controllo della sua auto sull'A29 provocando la morte dei suoi due figli, Francesco di 13 anni e Antonino di 9. Il risveglio è stato indotto dai medici dell'equip del Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo che continuano a monitorarne le condizioni. In seguito all'incidente Provenzano riportò un trauma cranico, emorragia cerebrale, trauma toracico e alla colonna vertebrale. Adesso è cosciente ma resta in prognosi riservata. L'uomo è indagato dalla procura di Trapani per omicidio stradale aggravato dall'avere commesso il fatto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. È risultato positivo al drug test per aver assunto cocaina e proprio la sera dell'incidente gli agenti della polizia stradale di Trapani gli sequestrarono una bustina contenente un grammo di cocaina purissima. Infine, secondo ciò che emerge dall'indagine degli accertamenti svolti la sera dell'incidente, non ci sono tracce di frenata all'altezza dello svincolo in cui è avvenuto l'impatto. Il piccolo Antonino è deceduto qualche giorno fa all'ospedale Villa Sofia, Francesco invece è morto sul colpo dopo l'impatto. A partire da questa tragedia siamo tutti invitati a riflettere con responsabilità sul valore della vita umana, ha detto Monsignor Pennisi durante l'omedia con voce rotta dall'emozione. Le nostre lacrime sono un grido che invocano giustizia, una tragedia umanamente impossibile da spiegare.